Il piano economico finanziario e la tassa sui rifiuti sono collegati al bilancio, poiché l'illustrazione del quale è ancora all'esame delle commissioni, meglio affrontare tutto assieme e quindi rinviare la discussione. Sulla base di queste considerazioni, ieri in Consiglio Comunale, il consigliere forzista Michele Babuder ha ottenuto che il dibattito sulle delibere sia rinviato, scatenando l'opposizione le cui accuse tuttavia l'esponente azzurro rigetta. La dimostrazione plastica della incapacità di questa maggioranza, non solo di avere una visione, cosa che abbiamo detto più volte, ma anche di governare questa città. C'è l'intendimento di sfruttare tutto il tempo a disposizione, nell'interesse della collettività, magari cercando anche quei correttivi che la collettività stessa, i cittadini e le imprese auspicano. L'opposizione poco può fare di fronte all'atteggiamento del centrodestra. La maggioranza però non si nasconde dietro un dito. Babuder ammette che il rinvio potrebbe servire anche a trovare nuove strategie utili ad evitare i rincari. Come già dimostrato in passato, rispetto al bilancio non ci sono mai state aperture di nessun tipo da parte della maggioranza nel riconoscere o nell'accogliere suggerimenti da parte dei gruppi consigliari di minoranza. Credo che la maggioranza debba mettersi d'accordo innanzitutto con se stessa e capire se ha i numeri per votare quello che è il documento più importante di un'amministrazione. Essere costretti in qualche misura ad adeguare anche le tariffe, lo vediamo però anche nei comuni di Muggia, lo vediamo nei comuni di Udine, lo vediamo in molti comuni italiani perché ci sono alcune poste, ad esempio l'adeguamento a Uistat o alcuni migliori servizi che sono erogati, ulteriori invece che sono stati aggiunti comportano anche dei costi aggiuntivi. Ovviamente non fa piacere a nessuno essere costretti ad aumentare le tasse e il bilancio non va fatto quadrare con l'aumento e con la tassazione a carico della collettività. Proprio per questo cerchiamo anche fino all'ultimo di vedere quali correttivi si possono adottare nell'immediato, nel breve periodo o magari per il prossimo futuro più vicino.